Benjamin, un ritorno a Siena, uno dei tanti ritorni della Mezzana, come vedi il fatto di essere tornato a giocare qui a Siena? Io sono molto felice, molto contento di essere qui, conosco tutti, sono felice, non aspetto un'ora, io non aspetto un'ora di giocare. La Mezzana è molto cambiata come giocatore rispetto a quando si è andato via te, come vedi questo nuovo gruppo? Sì, sì, infatti il primo giorno che ho venuto qui ho detto ma c'è più nessuno, comunque c'è il Caradetto, c'è il Re, c'è l'Ectale, abbiamo un buon gruppo secondo me, lavoriamo insieme, poi piano piano abbiamo il livello, quello che vogliamo. E senti, te come stai fisicamente? Perché l'anno scorso non hai giocato, però dicono che ti sei allenato duramente te, insomma, da solo, come stai? Io sto bene, ma piano piano, ancora 100% ma ci vuole un po' di tempo, ma sto migliorando però, sto migliorando però. Un'ultima battuta su Luca Banchi, cosa vi siete detti quando vi siete visti? Conosco Luca Banchi da 6 anni, allora, il maestro è.